Vincenzo Come dice il Sor Savelli Le regate finiscono al Vigorelli Abbiamo fatto anche la rima Chi arriva prima vince Il gioco è abbastanza banale Oggi è domenica C'è tanta gente qui al Villaggio Un'ottima risposta da parte del pubblico Per questo meraviglioso evento Credimi Sono sicuro che il meglio deve ancora venire Man mano che si aprirà questo evento Andremo verso le finale Ci sarà sempre più gente Grazie